Buongiorno, benvenuti all'Atlas Concord Park Studio. Oggi vi presentiamo la nuova collezione Boost Natural Pro nata dal grande successo di Boost Natural, che ne amplia colori e gamma decorativa. Seguitevi! Il progetto Boost Natural nasce dalla collaborazione con Matteo Brioni, architetto italiano famoso per le sue realizzazioni in argilla. Questa collaborazione permette di unire la bellezza della terra cruda, con le performance tecniche del grass porcellanato. L'insieme delle due collezioni offre oggi la più vasta gamma effetto cemento naturale sul mercato, con una palette di 15 colori e 6 superfici decorative da rivestimento. Le superfici riproducono l'aspetto materico dell'argilla, con le sue lievi irregolarità, i colori tenui e le delicate sfumature tono su tono. Parte fondamentale della collezione è il progetto di rivestimenti nel formato 50x120, che integra e valorizza i pavimenti in grass porcellanato. Il decoro 3D Rise ha una superficie tridimensionale caratterizzata da un pattern rigato e da una morbida texture irregolare. Il decoro 3D Wave, disegnato da Matteo Brioni, si caratterizza per un delicato rilievo onde arricchito da piccole imperfezioni tipiche della spattolatura manuale. Il decoro 3D Craft ha un rilievo tridimensionale che ripropone un pattern botanico realizzato con la tecnica della lavorazione a spatola. Il decoro Motion si distingue per un pattern ad onde arricchito da righe verticali in leggero rilievo. Le pareti prendono vita grazie ai decori e ai rivestimenti tridimensionali che assumono quel sapore materico ed artigianale tanto apprezzato nell'interior design contemporaneo. Con il lancio della nuova collezione Boost Natural Pro andiamo ancora di più ad ampliare la gamma Boost World. Non vediamo l'ora di accogliervi presso l'Atlas Concord Park Studio per il lancio delle nuove collezioni. A presto! Grazie a tutti!